Abbiamo il pesce spalla marinato Poi abbiamo i... Stai inserito su due macconi di terra con mix di pota alga proprio dove lo fresco e una panca di torri ancora... proviamo come vediamo un po' come lo possiamo proporre questo antipasto subletto e particolare un momentino una buona insalata di tonno con la cipollina fresca perché la gradisce un pomodorino molto delicato un pomodoro e ciliegino e ancora, infine, l'ultimo il più buono il più particolare l'anzarello e l'alzarello proviamo un�� video precivo assolutamente un altro attimo t controle che ci siamo diventati, con la crema di pomodoro fresco, crema di ceci e pesce sbattico. Vabbè, in diretta dalla prova, a voi signori, a voi signori. Buon appetito e buona serata, allegria!